Oggi pomeriggio alle ore 19 presso l'oratorio San Giovanni Paolo II ad Agropoli si svolgerà il secondo incontro rivolto ai separati e divorziati singoli o risposati che vivono la propria esperienza all'interno della comunità diocesana. La riflessione dal titolo Agli occhi di Dio, agli occhi della Chiesa sarà guidata da Don Franco Pecoraro, canonista e vicario generale della diocesi. Dopo il primo incontro, svoltosi nel mese di gennaio con il vescovo sua eminenza Monsignor Ciro Miniero, l'ufficio diocesano per la pastorale familiare si propone con questo secondo appuntamento di confrontarsi alla luce del diritto canonico con il vincolo sacramentale di queste persone ferite dalle vicende della vita ed aiutarle a vivere in Cristo i propri passi, superando i turbamenti e le sofferenze nella fede e nella carità.